Aspetta, ti dico quando è partito. Lo mandiamo. Ok, potete partire. Vai. Bene, buonasera a tutti. Sono Gaetano Cangemi, che mi occupo un po' insieme a Toccafondi e ad altri del Centro Biblico Diocesano. Ringrazio tutti quanti la partecipazione. Scusa, Gaetano, metti il video perché non ti vediamo. Ma lo facciamo per... va bene. Per non appesantire il traffico. Eccoci. Dicevo, saluto tutti a nome del Centro Biblico Diocesano per la vostra partecipazione a questo secondo incontro di questo anno pastorale. sul Libro degli Atti degli Apostoli. Il primo è stato fatto nel mese di dicembre nella Chiesa di San Vito. Don Luca Bassetti ci ha introdotto in quel momento in riflessione sulla Chiesa e le Chiese nel Libro degli Atti degli Apostoli. riflessione che fu avviata e che poi sarà continuata. Noi in questo giorno della Domenica della Parola abbiamo pensato che potesse essere interessante il tema che abbiamo proposto e che si distacca un po' dall'avvio che avevamo dato, ma così nell'affidamento al Signore chiediamo che, ecco, riflettere sulla testimonianza sull'annuncio nel giorno che la Chiesa dedica alla Parola di Dio potesse avere una sua rilevanza. Io do subito la parola a Don Luca Bassetti, ma vorrei semplicemente leggere come introduzione della preghiera il santo responsoriale di oggi. Cominciamo con un segno di croce. Io leggo quei pochi versetti e poi do la parola a Don Luca. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito. Fammi conoscere, Signore, le Tue vie. Insegnami i Tuoi sentieri. Guidami nella Tua fedeltà e istruiscimi perché sei Tu il Dio della mia salvezza. Ricordati, Signore, della Tua misericordia e del Tuo amore che è da sempre. Ricordati di me nella Tua misericordia per la Tua bontà, Signore. Buono e retto è il Signore. Indica ai peccatori la via giusta. Guida i poveri secondo giustizia. Insegna ai poveri la sua via. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo come era in principio e ora è sempre. Ora è sempre, nei secoli. Nei secoli, nei secoli. Amen. Ecco Don Luca a te. Ecco sì, vogliamo onorare proprio questa domenica dedicata alla parola di Dio. Dall'anno scorso, sapete, è stata istituita questa terza domenica del tempo ordinario che normalmente nella lettura domenicale anche dei Vangeli è la domenica riservata un po' all'incontro di Gesù con i discepoli. Oggi abbiamo letto in Marco, nell'angelo domenicale, appunto la predicazione di Gesù che annuncia il regno di Dio, che chiede di fidarsi di Lui per entrare sotto il potere, questa signoria di Dio, perché ci governi Lui. E quei primi quattro discepoli, due coppie di fratelli, accettano di farsi governare da Lui. Marco, nel Vangelo di oggi, ci dà il prototipo, potremmo dire, di quello che poi viene chiamato l'annuncio, il Vangelo. La parola Vangelo, sapete, non indica soltanto un libro, anzi, soltanto dopo indicherà il libro, che racconta appunto in senso storico-teologico la vicenda terrena di Gesù, fino alla sua Pasqua. Ma il Vangelo, anzitutto, nella comunità cristiana primitiva, indicava quell'annuncio iniziale, appunto, che genera la risposta della fede, la fiducia nel cuore dell'uomo, che perciò si lega a Gesù come il suo Signore, il suo Salvatore, che sente tutto il bene che Gesù gli vuole e gli fa, e decide quindi di fidarsi di Lui. Da quel momento si entra sotto un potere, un governo, che ci impedisce di preoccuparci di noi stessi, di autogovernarci con i nostri mezzi, col nostro potere personale, di essere troppo preoccupati di noi stessi, perché entriamo in una cura che Lui si prende di noi. Ora, questo primo annuncio che avviene, secondo Marco, appunto, sulle rive del lago di Galilea, a quelle due coppie di pescatori, poi, in modo analogo, diventa, appunto, la parola stessa della Chiesa, cioè di quelli che da discepoli di Gesù diventano i suoi testimoni. E, naturalmente, se Gesù annunciava il regno di Dio con un'espressione che praticamente è soltanto sua, era un'espressione che non si usava prima di Lui, in quel senso lì, perlomeno, non si userà neanche dopo di Lui più di tanto, ce la testimoniano i Vangeli. Ma mentre Gesù proclama il regno, i suoi discepoli ormai annunciano Gesù. sanno che il regno di Dio sarebbe un'espressione troppo generica, ormai, a fronte di colui che si è manifestato nella sua divinità come uomo, appunto come uno di noi. E perciò parlare di regno di Dio diventerebbe, appunto, nell'annuncio della Chiesa, se fosse soltanto questa espressione, qualcosa di troppo generale, che alla fine non ci rimanda veramente alla adesione personale, di amicizia a qualcuno. Allora, oggi ci occupiamo di questa realtà, no? Che abbiamo chiamato come annuncio, testimonianza. Cioè, che cosa fa la Chiesa riguardo a Gesù? Che cosa ha fatto Gesù, abbiamo visto, riguardo ai suoi discepoli, e quanto poi la Chiesa, nel suo nome, fa opera riguardo a lui. Allora, per quanto riguarda, appunto, quello che negli Atti degli Apostoli viene considerato come l'annuncio, la predicazione degli Apostoli, noi abbiamo diversi esempi che riguardano soprattutto due grandi figure, Pietro e Pietro e Paolo. All'inizio degli Atti, Pietro, Pietro, diciamo, fino al capitolo decimo, pronuncia dei discorsi, degli insegnamenti, o una predicazione che richiama alla fede, alla conversione, a Gesù. Nella parte, invece, successiva degli Atti, dopo il capitolo tredici, dal capitolo tredici in poi, sarà, invece, soltanto Paolo a parlare. Tra Pietro e Paolo si inseriscono altri personaggi nei capitoli, appunto, che vanno dal 6 fino all'8, e cioè Stefano, Stefano fa un discorso molto lungo, che è più lungo di tutti, nel Libro degli Atti, prende circa il 5% dell'intero testo degli Atti. ma non è un discorso tanto di evangelizzazione, direttamente, quello di Stefano, quanto piuttosto una difesa, un'autodifesa, potremmo dire, che lui fa dalle accuse dei giudei, che diventa, però, poi, proclamazione di Gesù. E Filippo, in Samaria, per dire che abbiamo diversi discorsi che possiamo dire, se noi li consideriamo complessivamente nel Libro degli Atti, il rapporto che c'è tra i fatti raccontati e i discorsi dei protagonisti, i discorsi prendono forse circa il 20-30% del racconto di Atti, che non è poco, nell'economia di tutto il libro, quindi, devono essere cose piuttosto importanti. ora, io non so quanto il nostro tempo ci consente, ovviamente poco, di approfondire questa realtà, perché pensate che dovremmo considerare almeno il di Pietro, i cui discorsi sono tre, al capitolo 2, al capitolo 3, e poi al capitolo 10, a casa di Cornelio, e poi Paolo, c'è almeno altri tre grandi, importanti discorsi che fa Paolo, ad Antiochia di Pisidia, i giudei, poi a Pagani, in due contesti diversi, all'Istra, per dei montanari, un po' primitivi, diciamo così, e ad Atene, invece, per gente molto più colta, che ha una sensibilità, è un'attitudine intellettuale notevole, e quindi con una differenza, Paolo si pone davanti all'altro destinatario. Naturalmente non possiamo entrare, diciamo, in ogni singolo discorso, nei suoi aspetti, nella sua articolazione, dobbiamo cogliere dei tratti un po' generali, quindi qualcosa che li accomuna, e magari poi, ovviamente, le differenze che sono legate principalmente all'uditorio, ai destinatari, al tipo di uditorio che si ha davanti, che siano giudei, che siano pagani, c'è una differenza nell'impostazione proprio del discorso, dell'annuncio, che siano persone come i montanari di Listra, nell'Asia Minore, nell'Anatolia, oppure che siano i cittadini ateniesi, anche lì, appunto, la condizione del destinatario cambia un pochino il modo con cui il discorso viene pronunciato, ma alcune caratteristiche di fondo rimangono. Ora, come introdurre tutto questo? Anzitutto, con una considerazione, direi, cioè che i discorsi, o la predicazione, l'annuncio, non è, non avviene mai per un'iniziativa presa dagli apostoli, potremmo dire così, dai discepoli, presa, come dire, a tavolino. Cioè, i discorsi, o l'insegnamento, la predicazione, non si pianifica come una decisione della Chiesa, come una sorta di strategia pastorale o missionaria della Chiesa. C'è sempre un'iniziativa che si riconosce provenire dall'alto. Cioè, l'apostolo, il testimone, si trova in una situazione in cui qualcosa accade, normalmente un evento, appunto, che è il Signore stesso a suscitare, e che diventa l'occasione, la spinta, perché si possa parlare di Lui, perché si possa introdurre l'annuncio e rivolgersi quindi ai destinatari con una, potremmo dire, testimonianza, resa al proprio Signore. Anzitutto, tutto il Libro degli Atti si colloca proprio dentro questa iniziativa di Gesù. È vero che parla Pietro, è vero che parla Paolo, ma è sempre Gesù che in loro agisce. Tant'è che Gesù all'inizio degli Atti, prima della sua salita al cielo, al capitolo uno degli Atti, ci sono, ci è raccontato di Gesù che incontra appunto i suoi discepoli e lascia loro come delle consegne e tra le cose dice proprio voi rimanete qui, non prendete iniziativa finché non siate rivestiti di potenza dall'alto. Allora è chiaro, non è un potere vostro, un'iniziativa vostra, una bravura vostra che opererà, ma è il fatto che vi fidate di me e rimanete docili a un'iniziativa dello Spirito. Questa potenza dall'alto ovviamente allude al dono dello Spirito, ma il dono dello Spirito è Gesù che lo opera, che lo comunica. Tant'è, pensate che alla fine del Vangelo di Luca l'ultima immagine che abbiamo di Gesù è quella della sua salita al cielo, è raccontata due volte la salita al cielo alla fine del Vangelo e all'inizio degli atti. Alla fine del Vangelo Gesù tiene le mani alzate come in un gesto benedicente, come un gesto sacerdotale, ma si potrebbe dire come un gesto paterno, come Isacco su Giacobbe, no? Anziché su Esau, è il gesto con cui il padre andandosene comunica ai figli tutto quello che gli resta, tutta la sua vita, la sua eredità materiale e spirituale e ai figli in quel gesto diciamo così nobile che è il gesto del diminuire di un padre, di sottrarsi, riempie i figli di quell'energia di amore che lui ha sempre dato fino all'ultimo per dire ora tocca a te, ci sono io con te, me ne vado ma ci sono. ecco, il gesto di Gesù di salire al cielo viene connotato in questo modo. Allora il libro degli... e perciò allora Gesù si sottrae, scompare perché va tutto nel dono che fa del suo spirito. Allora Ascensione e Pentecoste capiamo che sono profondamente collegate. Gesù quando appunto nel Vangelo di Giovanni questo dice bisogna che io me ne vada perché se non me ne vado non verrà a voi il Consolatore. Se io non accetto questo dono di me stesso che mi porta a scomparire proprio perché ho dato tutto questo tutto non può venire a voi. Questa potenza di Dio che è l'opera luminosa e piena di calore dello Spirito Santo non può invadere la vostra vita. Allora capiamo il passaggio di consegni e il passaggio di testimone dal risorto asceso al cielo ai suoi discepoli è quello che poi il Libro degli Ati racconta nella Pentecoste. Allora non è un caso che il primo discorso il primo insegnamento pronunciato anche qui non a caso da Pietro come figura proprio di riferimento di tutto il gruppo dei discepoli questo primo annuncio avvenga il giorno stesso di Pentecoste. Allora che cosa hanno fatto i discepoli prima di questo evento della Pentecoste sono rimasti buoni zitti sono rimasti chiusi in quel cenacolo dove erano dediti soprattutto alla preghiera vi ricordate come comincia proprio il Libro degli Atti a Gerusalemme nella stanza al piano superiore riuniti con alcune donne e con Maria la madre di Gesù si insiste anche qui sul ruolo di Maria e Luca crea stabilisce un parallelismo molto importante con l'inizio del Vangelo all'inizio del Vangelo Maria è piena di Spirito Santo e concepisce all'annunzio dell'angelo all'inizio della Chiesa Maria attira su tutti i discepoli il dono dello Spirito pregando insieme con loro quindi c'è un parallelismo si genera Gesù nel grembo di Maria ma insieme con Maria Gesù ormai nel suo nel dono del suo Spirito genera questa comunità che è il suo stesso corpo che è il prolungamento della sua presenza e della sua azione perciò vedete non abbiamo qui all'inizio degli Atti degli Apostoli l'idea di una Chiesa sparata che si butta a capofitto in un progetto suo di conquista di territori come magari potrebbe in certe epoche e forse è stato anche così pensiamo anche a certe strategie missionarie che si sono perseguite magari con anche quell'ambivalenza di tipo coloniale esportiamo una cultura vincente dei mezzi economici più forti e poi naturalmente porgiamo Gesù Cristo che è appunto il come dire il marchio del vincitore e ci imponiamo con una superiorità facendo passare attraverso questa percezione di superiorità anche la figura e la fede in Gesù non è affatto così nel gruppo dei discepoli il gruppo dei discepoli negli atti è un gruppo minoritario un po' spaurito ancora chiuso che vive questa gestazione di qualcosa che il Signore opererà soprattutto mediante la preghiera e la custodia della promessa di Gesù e l'attesa di quello che Gesù farà allora dunque l'iniziativa sappiamo che è sempre del risorto mediante lo spirito allora i discorsi degli apostoli prendono sempre l'avvio da qualcosa che accade dicevo prima il primo discorso al capitolo 2 degli atti prende l'avvio proprio dall'evento della Pentecoste da questa irruzione dello spirito che porta i discepoli a parlare facendosi capire nelle diverse lingue nei diversi linguaggi a riscaldando il cuore di quelli che ascoltano allora siccome alcuni criticano questo fatto e dicono questi sono già ubriachi di mattina perché parlano in questo modo strano allora Pietro interviene Pietro che è molto sensibile all'ambivalenza di tutto ciò che è sacro e soprannaturale e dice no non sono ubriachi è accaduto questo è vero che quando si manifestano cose di Dio possono essere sempre percepite in modo ambiguo come truffa come a volte sciocchezza umana eccetera no qui è accaduto questo e Pietro di lì comincia il suo discorso il secondo discorso di Pietro invece al capitolo 3 inizia perché c'è la guarigione di uno storpio di un paralitico che si trova seduto a chiedere l'emosina alla porta del tempio Pietro ricordate fissa quest'uomo dice io non ho oro argento da darti tu ti aspetteresti dei soldi non ce l'ho ma ti do quello che ho nel nome di Gesù cammina e quell'uomo si alza e comincia a camminare è il nome di Gesù è questa potenza del nome di Gesù dice Pietro perciò Pietro come a Pentecoste ha detto guardate non siamo ubriachi è successo qualcosa da Dio così davanti allo storpio guarito quando la gente strabuzza gli occhi e considera questi come dei padri eterni quasi e dice Pietro no no guardate che non siamo stati noi è stato il nome di Gesù la fede che quest'uomo aveva nel nome di Gesù che gli ha dato la guarigione allora diciamo l'iniziativa di parlare di rendere testimonianza è sempre preceduta da qualcosa che il Signore opera e operando apre come la strada a quelli che lo devono annunciare se andiamo per esempio in un altro ambito che è quello di Cesarea quando Pietro incontra Cornelio vi ricordate quel centurione pagano che viene alla fede sono i primi pagani che credono in Gesù e vengono poi battezzati senza essere circoncisi è la prima volta in assoluto che accade questo nel libro degli atti è anche lì la predicazione di Pietro a Cornelio è preparata prima da una visione che ha Cornelio in cui intravede Pietro come colui che potrebbe introdurlo nella fede una visione che ha Pietro con quella tovaglia con gli animali nella quale appunto Pietro capisce o meglio all'inizio non capisce ma poi obbedendo dopo capisce che anche quegli animali impuri possono essere mangiati Dio glielo comanda quindi non considerare impuro quello che Dio ha purificato è chiaro che in questo diciamo in questa visione simbolica Pietro poi capirà che quelli che lui teneva alla larga come altri i pagani il Signore li ha già purificati mediante la fede allora il discorso che accade in casa di Cornelio accade diciamo per un'iniziativa che non è né di Pietro né di Cornelio ma è del Signore mediante il suo spirito una cosa simile accade a Paolo quando sulle montagne di Listra parlerà a quei montanari dopo aver guarito anche lì un paralitico questo rialzatosi alle parole di Paolo è suscitata l'ammirazione di questi primitivi che vorrebbero Paolo lo chiamano Hermes cioè Mercurio il Dio Hermes che era il Dio della parola parlava tanto Barnaba un po' più anzianotto lo chiamano Zeus e li cominciano a adorare Paolo e Barnaba come dei e vogliono offrire loro un sacrificio Paolo e Barnaba si ritirano subito dicono no non avete capito non siamo stati noi è stato e allora lì comincia quell'annuncio che poi vedremo se ci rimane un po' di tempo muove da quello che essi possono capire di che cosa significa avere a che fare con un Dio carico di provvidenza che provvede le piogge che provvede la fecondità ai campi l'argomento a cui loro potevano essere più sensibili quel Dio che ora li raggiunge in Gesù quindi sempre un segno un segno esterno precede l'annuncio possiamo dire così l'atto più proprio della predicazione e c'è sempre un legame tra l'evento e la predicazione qui siamo nella stessa situazione che dice il Vangelo di Luca di Gesù Gesù era potente in opere e parole dice appunto a Emmaus uno dei discepoli di Emmaus un'azione potente il predicatore viene mosso dal segno dall'evento e in esso accoglie l'iniziativa di Dio che funzione ha questo segno la Pentecoste la guarigione dello Storpio e via dicendo anticipano in qualche modo e inducono l'Apostolo a parlare accreditano l'Apostolo stesso perché l'Apostolo il testimone si trova in qualche modo coinvolto già in quell'evento manifestano una potenza che poi nel discorso che fa l'Apostolo e la sua predicazione viene pian piano ricondotta al risorto quindi non è una potenza un'energia cieca è avere a che fare con l'amore di Gesù nello stesso tempo poi quel segno quell'evento in qualche modo è anche simbolico di quello che è offerto al destinatario cioè quello che è accaduto che questi parlano lingue diverse eccetera no e manifestano un'unità è lo spirito che è promesso negli ultimi tempi che è dato a tutti anche a voi uomini donne bambini piccoli grandi ricchi poveri non c'è più distinzione è un'opera democratica si potrebbe dire quella che Dio ormai ha fatto che in qualche modo sottrae il potere sulla parola a delle categorie scelte esclusive di mediatori e lo comunica a tutti chiunque nella fede può essere destinatario di questo dono dello spirito oppure la guarigione dello storpio se il nome di Gesù ha dato potere a quest'uomo di rialzarsi allora anche voi potete rialzarvi dalla vita di prima potete guarire dalla vostra malattia che vi inchioda all'osservanza della legge di una legge vuota e che vi rende abili a seguire il Signore Gesù capiamo dunque il valore del segno diventa poi per estensione anche simbolico e partecipato alla condizione del destinatario proviamo a riprendere qualcosa partendo proprio dalla Pentecoste dall'evento della Pentecoste e cogliamo alcune caratteristiche che ha questo annuncio rivolto principalmente ai giudei intanto si parte dal fatto stata guarita mettiamo la guarigione dello storpio la Pentecoste c'è stato qualcosa che Dio ha operato ora ciò che è stato operato normalmente viene ricondotto alle scritture qui siamo ovviamente con un destinatario giudaico quindi la grammatica con cui questi destinatari possono decodificare in qualche modo l'evento no e interpretare quindi il senso della predicazione della testimonianza resa all'evento è ovviamente la scrittura quello che loro hanno diciamo di familiare come grammatica proprio della loro fede e nel discorso di Pietro si citano le profezie Gioele in particolare che annuncia che per gli ultimi tempi lo spirito sarà infuso su tutti figli e figlie giovani e anziani queste parole sono care a Papa Francesco i giovani che avranno visioni gli anziani che faranno sogni degli anziani e proprio sognare e via dicendo quindi questa comunione che c'è tra le varie generazioni tutte animate da questa realtà che tocca innanzitutto affettivamente pensate quando uno pensa al dono dello spirito ma da dove entra in noi lo spirito non so se ci avete mai riflettuto cioè il punto iniziale dove noi come dire apriamo quella fessura quella crepa del nostro io che cede diciamo che viene meno un po' alle proprie sicurezze no e consente quella ferita quella crepa un'apertura del nostro cuore ma da dove entra in noi l'azione di Dio la forza la luce del suo spirito beh nella Bibbia troviamo spesso indicato il cuore il Signore parla al cuore dell'uomo il cuore non è la facoltà direttamente razionale o intellettuale non è neanche direttamente soltanto il luogo della volontà il cuore è il modo generale per dire in tutto questo l'unità della persona tutto ciò che in qualche modo è il potremmo dire così il tutto no della dimensione interiore intima di ciascuno di noi ma c'è un particolare che colpisce nel libro degli atti e cioè che nella Pentecoste non so se vi è mai capitato di farci caso ma non ci si fa caso normalmente perché il testo della Pentecoste in italiano dice che lo spirito scendendo dal cielo in lingue come di fuoco dice si posò su ciascuno di loro questo verbo posarsi in italiano dall'idea di che se qualcosa viene dall'alto e dove si posa la prima cosa che incontra è la testa immaginando quindi l'uomo ritto come una specie di candela la testa dove in qualche modo questa fiammella tocca inizialmente l'uomo e le varie rappresentazioni anche iconografiche della Pentecoste sia in Oriente sia in Occidente raffigurano queste fiammelle poste sulla testa invece il testo in greco dice con un'espressione un po' diversa dice che lo spirito non si posò ma sedette poi va bene si può dire anche si posò nel senso che il verbo sedersi non esclude ecco anche che si possa usare il verbo posarsi per indicare questa azione ma catizzo vuol dire proprio mettersi a sedere allora se pensiamo allo spirito come qualcosa che in qualche modo viene a avere come una forma colporea qualcuno che siede qualcosa che si mette a sedere dove ci si siede rispetto a un'altra persona immaginiamo che quella persona ci prende come in braccio o ci si siede nella diciamo sulle gambe sul ventre no a contatto come se la persona seduta fosse una sedia e allora il contatto avviene con una parte che potremmo chiamare il ventre di quella persona le viscere quello che nella Bibbia è chiamato proprio così come il luogo degli affetti le viscere sapete come quando anche nei Vangeli si usa per esempio il verbo commuoversi no anche Gesù si commosse più volte o pensate alla parabola del samaritano in Luca quell'uomo vedendo il ferito il samaritano si commosse cioè gli si mossero le viscere noi sappiamo che quella parte diciamo del nostro corpo è anche quella più sensibile dove tendiamo anche a somatizzare i nostri disagi no le nostre reazioni ma dove anche ci sentiamo presi profondamente negli aspetti negli affetti è una potremmo dire soprattutto una caratteristica femminile questa dove lì c'è il luogo anche generatore della maternità allora beh io può sembrare un'operazione peregrina quella che io ho fatto dire appunto che lo spirito entra in noi dalla dimensione affettiva ci tocca prima negli affetti poi ci tocca nelle azioni nella volontà allora sentiamo che non possiamo più essere come prima se siamo pieni di amore se è stato riversato dentro di noi l'amore di Dio allora anche le nostre abitudini cominciano a cambiare ma non abbiamo ancora l'intelligenza per capire quello che ci è accaduto l'intelligenza viene dopo quando riflettendo sul tutto allora cominciamo pian piano a comprendere come il Signore agisce e quindi cominciamo a giudicare in modo diverso è quello che viene chiamata la metanoia la metanoia è uno stadio ultimo della conversione la conversione prima è l'amore riversato in noi poi sono le azioni che cambiano quindi ha un risvolto etico ma non è innanzitutto etica la conversione è affettiva innanzitutto ci si innamora poi si cambia vita poi si comincia a cambiare pensieri se pensate a una storia matrimoniale questo è prima ci sono gli affetti poi c'è il sacrificio di azioni che si fanno poi uno ci pensa dopo e dice ma com'ero scemo a far così ora non lo rifarei sì non eri scemo magari eri ingenuo eri trasportato poi dopo capisci che in certe cose eri anche maldestro dopo il bene cerchi di farlo in modo avveduto in modo cosciente in modo non troppo da protagonista cerchi di farlo con la misura che ci vuole che magari un all'inizio non ha non so se è chiaro questo discorso ma è importante e se volete ecco per dare rafforzare un po' anche quello che ho detto fino a ora visto che siamo nell'anno centenario di Dante e questi nostri grandi vanno ricordati in un mondo che diventa sempre più così superficiale su molte cose questi sono padri ma padri nel senso che hanno che hanno saputo pervadere veramente di fede di visione avevano una visione hanno saputo renderla pervasiva di una cultura di un modo di vivere di un modo di essere società e vanno onorati questi grandi pensate a come Dante descrive in quel cantico bellissimo che è l'ultimo il 33 del paradiso la figura di Maria quando dice nel ventre tuo si riaccese l'amore per lo cui caldo nell'eterna pace così è germogliato questo fiore nel ventre tuo l'amore in Maria si accende proprio lì certo è quello il luogo del concepimento e della maternità ma anche il luogo dove si riscalda quest'azione di Dio quest'azione di Dio opera il suo riscaldare e poi germogliare fruttificare così per ciascuno di noi forse diciamo la nostra riflessione anche cristiana la nostra teologia non ha lavorato tanto su questi aspetti ha un deficit di affettività è rimasta imprigionata in modo intellettualistico a volte o di tipo pragmatico etico ma si percepisce che molta riflessione molto pensiero non provengono da questa profondità di un affetto modificato che pervade di sé le azioni i pensieri e quindi anche la comunicazione la testimonianza perché sei testimone e non sei semplicemente un maestro uno che parla perché dici e cerchi di dire in modo povero e quasi come dire molto inadeguato quello che ti è accaduto in questa esperienza di un amore che ha acceso proprio la tua interiorità ora quando Pietro appunto riconduce quello che è accaduto alle scritture non ricordiamo che siamo davanti a un uditorio giudaico da lì risale quindi all'atteggiamento dei padri ma prima di ritornare a dire a riparlare dello spirito e cioè di dire è accaduto quindi questo che questi noi siamo pieni di spirito santo eccetera passa attraverso Gesù dalle scritture che fondano in qualche modo danno una chiave interpretativa dell'evento si arriva all'annuncio di Gesù e l'annuncio di Gesù Pietro lo formula in questo modo dice Gesù di Nazareth vedete era già stato accreditato da Dio aveva fatto prodigi segni queste cose che vedete già in lui cominciavano a manifestarsi ma voi lo avete consegnato ai pagani lo avete crocifisso lo avete ucciso è fortissima questa cosa perché questo voi eh che sembra come un indice puntato sul destinatario è la forza con cui Pietro inchioda molta di questa gente sarà stata non dico ignara ma forse estranea ai fatti e tuttavia il Vangelo ci dice che c'erano folle lì a dire crocifiggilo istigate appunto dalle autorità e Pietro su tutti fa ricadere questa responsabilità sia su chi ha puntato il dito parlato invocato la morte di Gesù sia su chi magari è stato zitto e non ha fatto niente per impedirlo voi l'avete ucciso ma Dio lo ha risuscitato e qui avviene il passaggio all'uomo si imputa l'operazione di morte in fondo l'uomo sa fare a far morire c'è una cosa che l'uomo non sa fare è far rialzare dai morti rivivere dai morti questa è proprio un'opera che la può fare solo il Signore è l'opera del Signore che la pietra scartata dai costruttori diventi pietra nuova angolare fondante un nuovo edificio questa è l'opera del Signore allora Pietro dice lui lo ha risuscitato e questo anche secondo le scritture e dice appunto lui che è risuscitato dai morti dopo aver ricevuto da risorto lo spirito che lo ha lo spirito che gli ha ridato vita è diventato definitivamente suo ma lui questo spirito lo ha effuso e voi potete vedere e udire eh dal fatto dall'evento che è accaduto quello che Gesù ha operato donando lo spirito allora vedete qui diciamo in modo come dire estraneo a qualunque tipo di spiritualismo che a volte tocca anche certe potremmo dire certe componenti anche nostre ecclesiali cattoliche c'è un invocare lo spirito 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 quasi in modo come fosse estraneo a Gesù come se poi Gesù fosse marginale ma non c'è possibilità di ricevere lo spirito se non si passa da una relazione diretta con Gesù si deve essere messi a confronto con l'evento della croce e cioè con non con lo spirito in senso spiritualistico ma con la carne con un evento incarnato crudo anche duro che ci inchioda le nostre responsabilità ma mentre ci inchioda ci apre anche alla speranza ed ecco il punto direi fondamentale del kerigma o dell'annuncio quando Pietro dice queste parole voi lo avete crocifisso Dio lo ha risuscitato ma Dio ha disposto che lui da risorto donasse lo spirito che è anche per voi perché è promesso a tutti gli uomini ormai lo spirito è democraticamente rivolto e offerto a chiunque invoca il nome del Signore questa gente all'udire queste parole soprattutto voi l'avete crocifisso si sentono trafiggere il cuore e qui c'è qualcosa che dobbiamo capire perché qui c'è un passaggio tra la parola detta dall'apostolo è un effetto che si provoca nel cuore o nell'interiorità della persona che è come una ferita si sentono trafiggere qui il verbo è chiaramente diciamo quello di una spada o di una lancia che buca e quindi qualcosa che penetra dentro dove c'era una scorza dove c'era una resistenza che viene finalmente vinta è come se l'io chiuso in se stesso sicuro di sé cominciasse a presentare delle crepe da cui può entrare una luce che lo cambia molte vicende di conversione funzionano così ricordiamo la conversione dell'innominato per esempio nei promessi sposi comincia con un travaglio di incertezza di crisi proprio profonda dell'io che finalmente poi si apre alla luce ora qui però c'è qualcosa che dobbiamo riconsiderare meglio alla luce del Vangelo di Luca il Vangelo di Luca racconta la crocifissione con un particolare che non c'è negli altri Vangeli dice che le folle erano accorse a vedere uno spettacolo cioè vedere morire delle persone era anche uno spettacolo macabro sappiamo che insomma i romani non scherzavano su queste cose il circo era fatto di questo era godere della sofferenza e della morte di altri in questo caso le esecuzioni capitali non è che fossero eseguite in pubblico solo per dare spettacolo e per soddisfare la sete di macabro che ci può essere nelle persone ma avevano anche un valore deterrente cioè attenti perché questo vedete c'è scritto sopra ladro malfattore eccetera si finisce così quindi era un monito nel caso queste folle se ne tornano battendosi il petto ora non è un'azione analoga quella della trafittura questa cosa ha operato il crocifisso in questa gente ha operato una coscienza del proprio peccato del proprio male della propria malattia della propria azione criminale e questa è diventata diventa come una forza interiore che porta verso la luce è bellissima questa immagine che dà il Vangelo di Luca perché in Luca mentre in Marco c'è solo un accenno che è il centurione che sembra esprimere una professione di fede che è la più alta di tutto il Vangelo di Marco in Luca invece ci sono diversi soggetti l'avvicinamento alla croce curmina con il ladrone il ladrone uno contro l'altro si pente poi il centurione quest'uomo era figlio di Dio poi le folle andando all'indietro che erano andate a vedere questo spettacolo come vedere uno spettacolo se ne tornano battendosi il petto e la scena della croce al tempo in cui Pietro parla negli atti degli apostoli non c'è più non è più possibile vedere il crocifisso appeso per le strade di Gerusalemme però la parola dell'apostolo l'annuncio di Pietro ha lo stesso effetto che guardare il crocifisso ridire in quel racconto brevissimo quello che è accaduto a Gesù e che lui ha vissuto per amore nostro quello che si chiama il kerigma o l'annuncio tutto questo in qualche modo opera lo stesso effetto di trafittura del cuore che ebbero anche le folle di Gerusalemme allora la fine di questa sicurezza diventa un cedimento che cosa dobbiamo fare ecco pentitevi allora pentitevi cambiate fatevi battezzare perché quello diventa il luogo e l'evento del vostro cambiamento allora la pentecoste che voi avete assistito da lontano dicendo guarda come sono curiosi quelli lì che dicono cose strane quell'evento che non vi riguardava che non vi coinvolgeva ma che voi potevate osservare soltanto attraverso la fede nelle scritture che lo promettono attraverso Gesù che lo compie perché vi dona lo spirito ma soprattutto perché voi credete in lui e accettate questa ferita di essere stati voi responsabili della sua morte ma capire che lui ha vissuto tutto questo con amore per voi e vi libera dal vostro io e vi guarisce nelle vostre ferite questo vi dispone a essere coinvolti anche voi nel segno d'altra parte è solo il crocifisso che ci cambia ha questa capacità il Signore che è unica e cioè è capace di dirci la verità del nostro peccato senza schiacciarci senza nientarci noi immaginiamo che delle volte o siamo veri e dobbiamo dire a qualcuno che ha sbagliato e allora siamo impacciati oppure siamo brutali oppure siamo misericordiosi e allora non siamo più veri perché intendiamo la misericordia come una specie di buonismo che dice vabbè lasciamo perdere ma lasciamo la persona nella sua situazione anche di oscurità di errore capite e noi ci gestiamo non siamo capaci invece il crocifisso è capace di dirci dall'alto della croce perché mi fai questo che male ti ho fatto popolo mio e noi vediamo lì il nostro male doveva finire su un innocente che soffre ma nello stesso tempo questo lui ce lo dice con un amore così grande con delle braccia aperte con un cuore dilatato che non ci schiacciano non ci annientano ma ci riaccendono la speranza quindi diciamo così ora vedo che il tempo passa e si avvicina quasi l'ora del mio parlare ma d'altra parte questo era il discorso più importante io non so se è chiaro questo punto centrale dove il perima comincia comincia ad agire come ferita che guarisce pensate che ora se insisto un po' su questo e magari tralascio altri aspetti dei discorsi successivi che ovviamente sono tante cose sarebbero da dire e mi dedico a questo mi sembra già una buona cosa per l'incontro di oggi pensate che questa ferita e che poi lascia entrare la grazia Gesù la allude già in qualche modo la vorrebbe già nel discorso che fa nella sinagoga di Nazareth sapete il Vangelo di Luca comincia proprio fa cominciare il ministero di Gesù a Nazareth e quando lui si alza a leggere nella sinagoga e vi ricordate legge le parole di Isaia 61 lo spirito del Signore è sopra di me mi ha consacrato mi ha mandato a portare la buona notizia ai poveri a liberare i prigionieri a dare la vista ai ciechi eccetera e poi Gesù che dice bene oggi si è compiuta per voi questa scrittura notate che anche lì Gesù non parla subito è perché loro lo fissano lo guardano e lo invitano a parlare che allora lui parla non prende l'iniziativa da sé e Gesù la prima cosa che dice queste parole del profeta sono vere per voi come mai questi abitanti di Nazareth si rivoltano in modo così violento fino poi a cacciarlo fuori lo vorrebbero quasi buttare di sotto dal precipizio si sentono offesi si sentono feriti da qualcosa che non accettano perché quando Gesù dice questa scrittura è vera per voi è come dire ma allora voi siete quei poveri voi siete quei prigionieri voi siete ciechi se foste davvero così no allora sarebbe già una buona notizia questa che vi raggiunge che vi guarisce solo che voi riconosceste questo il problema è che questi non lo riconoscono cioè sono talmente radicati nella loro durezza e nella loro presunzione di essere giusti davanti a Dio di osservare la legge che è come se dicessero come tu vieni qui sei diventato importante sei conosciuto eccetera ci vieni a dire che noi siamo poveri che noi siamo dei carcerati dei poveracci ma come ti permetti di dire questo a noi e Gesù fa di tutto per ferirli subito dopo poi dice quanti profeti c'erano quante vedove c'erano al tempo di Elia eppure solo una fu salvata la vedova di Zarepta una straniera quanti lebrosi al tempo di Eliseo eppure uno solo fu risanato Naaman il Siro ah due stranieri Nazareth sono quelli di casa Cafarnao sarebbero quelli già simbolicamente stranieri i Nazareth sono i suoi dove lui è cresciuto allora proprio i suoi rischiano di tirarsi fuori per eccesso di presunzione capite quindi a Nazareth fallisce la predicazione di Gesù perché questa gente non accetta di farsi né di riconoscersi povera né di farsi ferire dalla parola di Gesù per poi assumere questa povertà come il luogo della guarigione e dell'annuncio della buona notizia del Vangelo una scena differente ma che ha un meccanismo analogo è quella che alla fine del Vangelo di Luca i discepoli di Emmaus Gesù li ferisce sciocchi tardi di cuore non avete capito le parole dei profeti di Mosè e gliele spiega ma questi a differenza degli abitanti di Nazareth e fanno un'operazione di pazienza di accoglienza dicono va bene siamo sciocchi non abbiamo capito niente spiegaci ma allora si sentono riscaldare il cuore sentono che quella parola rigenera la loro interiorità che si era come indurita essiccata chiusa in un atteggiamento ribelle di rifiuto ma anche proprio di rifiuto di tutta la vicenda di Gesù che li aveva coinvolti illudendoli dopo no dopo diventano annunciatori agli altri a Gerusalemme ecco io sono arrivato fino a un certo punto guardo l'orologio aspetto che magari mi diciate un momentino se ci s'avvia la conclusione eh che dite Alessandro mi mi avvio alla conclusione magari poi sì diciamo sì Don Luca sì ecco volevo dire una cosa se qualcuno ha delle domande da fare le può scrivere sulla chat e poi te le pongo io Don Luca a nome degli altri benissimo eh facciamo in questo modo quindi se qualcuno vuole porre delle domande le scriva sulla chat e poi si gira a Don Luca vai tu puoi finire te sì 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 intanto chiedete pure interrompetemi anche se quando vedo qualcosa che compare sulla chat mi fermo no e per completare un po' questo quadro riferito all'Apostolo Pietro c'è un'altra scena di evangelizzazione che riguarda dei pagani allora lì possiamo capire che entri in gioco una strategia un po' diversa Cornelio era un centurione era un soldato tra l'altro no nel Vangelo troviamo altri due centurioni eh quello di Cafarnao in cui Gesù vede una fede grande grande no che lo meraviglia quello che dice basta una parola il mio servo sarà guarito e poi quello di Gerusalemme che è sotto la croce che riconosce Gesù come figlio di Dio e quindi ci sono già due illustri precedenti che dicono che queste figure di centurione sono pronte in qualche modo che questi pagani già Gesù li ha visti pronti a ricevere lui ad accoglierlo ad accogliere le sue parole e quindi che l'operazione che fa Pietro e gli apostoli di accogliere questi pagani alla fete senza che prima devano passare attraverso le pratiche ebraiche è un'operazione legittima già Gesù aveva intuito questa fede grande in gente pagana e il discorso appunto a Cornelio discorso diciamo è preceduto da questi eventi anche qui abbiamo sempre una ho visto una cosa poi mi è sparita aspetta scusate qualcuno scrive che non si sente difettoso l'audio quella lì era vecchia l'ultima che è arrivata è questa ah ok sulle tempistiche della conversione dell'inizio della predicazione di Paolo o comunque se c'è un testo che Don Luca mi può consigliare questa è l'ultima ma sai sulla conversione di Paolo ci porta un po' diciamo fuori tema rispetto al nostro discorso magari questo meriterebbe veramente un incontro un incontro dedicato proprio soltanto perché sapete che il racconto degli atti la conversione di Paolo diciamo la racconta tre volte lo stesso fatto quindi deve aver avuto un'importanza chiave dove poter trovare degli elementi che possono aiutare se vi interessa appunto questo tema ma diciamo ci sono testi che di per esempio sulla biografia di Paolo la vita di Paolo ce ne sono diversi da specialistici anche a più divulgativi in cui il tema viene affrontato un testo per esempio molto bello ma sai siccome sono sempre cose un po' un po' datate diciamo no anche se sono dei classici ormai non so più se si trovano in commercio è quello di Ieremias Ioachim Ieremias è un'esegeta protestante cresciuto a Gelusalemme che si intitola proprio la conversione di Paolo e lui ha con una grandissima capacità legge questi episodi della conversione raccontati da atti a confronto con la lettera ai Galati dove Paolo parla appunto proprio in senso autobiografico del suo incontro con il Signore e fa vedere come tutta la teologia di Paolo le sue grandi intuizioni provengano proprio dall'episodio di Damasco vi faccio un esempio non so Gesù come si presenta a Paolo luce certo lui Paolo è accecato è a terra ma Gesù si presenta in modo umile modesto perché mi perseguiti Paolo Saulo perché mi fai male si presenta come uno che soffre e Paolo dice ma chi sei sono Gesù che tu perseguiti gli avrebbe potuto dire sono il figlio di Dio avrebbe potuto usare una cristologia alta no piena di titoli e invece usa la cristologia più bassa Gesù meno di quello non si può dire sono Gesù che tu perseguiti cioè sono uno che soffre per te ma dove soffri per chi soffriva Gesù ovviamente non era più la persona fisica di Gesù essere perseguitato da Paolo perché Gesù ormai risorto ma sono i suoi discepoli i cristiani perseguitati allora lì Paolo avrà quell'intuizione poi che ritorna tante volte è quella del corpo ma noi siamo corpo di Cristo Cristo vive in noi è Cristo in noi il mistero dell'amore di Dio quello che per esempio quel versetto della lettera di Galati bellissimo non sono più io che vivo ma Cristo vive in me e questa vita ormai la vivo nella fede del figlio di Dio che ha dato se stesso per me allora la conversione segna veramente il marchio di una biografia cioè da come è accaduta la nostra conversione c'è il nostro DNA spirituale e ci sono poi quelle potremmo dire anche quel germe di pensieri di categorie che viene fuori dopo allora ripeto quello che ho detto prima la conversione prima ha una dimensione affettiva che è di smarrimento ma insieme anche di di conforto di qualcosa che entra e scalda il cuore no poi diventa azioni dopo si cambia vita si comincia un cammino in cui altri ci insegnano ci conducono in cui si cambiano certe abitudini no solo più avanti si è in grado di comprendere qualcosa di quello che ci è accaduto e di avere delle categorie un po' più adatte per comunicarlo sì no dite pure ci aiutate forse ti aiutano più le domande che magari i monologhi l'audio molti non hanno l'audio attivo però appunto per quello se lo scrivono sulla chat forse il sistema migliore sì magari così perché forse con l'audio si può fare un po' di confusione no poi con l'audio rimbomba quello che uno dice se te che parli farebbe eco sull'audio di altri quindi si sentirebbe malissimo ecco perché viene disattivato l'audio non per altri motivi viene disattivato per quel motivo lì comunque io credo sia importante fare una notazione prima di tutto ringraziarti Don Luca perché io credo che questi incontri siano fondamentali certamente come dici anche te non sono esaustivi e forse è proprio quello il bello oggi è la giornata della parola forse da questi incontri ci deve venire anche la voglia di andare avanti la voglia di continuare a leggerla il desiderio che questa nostra conoscenza diventi sempre più una conoscenza profonda sempre meno superficiale sempre meno moralistica moraleggiante e sempre più legata a conoscere veramente il vero annuncio di Cristo e perché veramente la parola trasformi la nostra vita io credo sia importante anche per questo questi incontri siano veramente importantissimo per questo in una giornata come oggi in maniera particolare bene vedo che sembra non ci siano altre domande per ora tra l'altro il potrete rivederlo si può rivederlo sul youtube della diocesi questo incontro per un po' di tempo rimarrà lì quindi potrà essere rivisto sì io se vi se vi può interessare nella parola a San Concordio Ponte Tetto insomma nella chiesa di San Concordio ogni martedì si si procede con una lettura continuata del libro degli atti quindi magari ogni volta è all'incirca un capitolo e questo fino al mese di giugno fino a circa metà giugno abbiamo programmato un calendario in questo senso ora è chiaro che venire lì un po' di persone vengono in presenza e va bene però cerchiamo anche per chi non riesce a venire non può ovviamente anche il periodo che viviamo di mettere una registrazione c'è un podcast che potete trovare però potrebbe anche per ora sono nove le registrazioni tipo quella di stasera però riguardano il testo giù giù potrebbe esserci ho forse messo anche un link nel sito del centro diciamo nella pagina del centro biblico della diocesi in modo tale che è un po' di materiale in più che potete consultare con delle schede in cui c'è il testo un po' suddiviso con delle note eccetera a cui io faccio riferimento mentre parlo ecco magari lo accennavo a Gaetano che ho occasione di vedere ora con Alessandro non avevo parlato ma era venuto in mente proprio in questi giorni oltre a questi incontri diciamo tematici ecco che possono essere magari rivisti ci può essere anche quello lì è soltanto una traccia audio è importantissimo e quanto più esperienze si riescono a mettere tanto meglio perché tanto più si riesce veramente a far diventare importante la parola quindi certamente ora si provvederà a fare questo link allegato va bene volentieri no una cosa posso no volevo certamente ringraziare Don Luca per la sua spiegazione il Signore perché ci dona questi momenti la tecnologia vediamo che ci mette in grado di superare almeno fittiziamente certe distanze no e fra le tante cose che Don Luca ci ha ricordato ecco vorrei richiamare che lo richiami lui non si fa più un tempo ma insomma i momenti della conversione perché ci ricordiamo che la nostra conversione non è mai compiuta come una parola detta e chiusa in un cassetto la nostra conversione è in divenire e si compone degli aspetti che lui ci ha messo in evidenza la dimensione affettiva la dimensione morale la dimensione dei pensieri ecco mi viene in mente quando Paolo in una sua lettera dice noi abbiamo il pensiero di Cristo ecco lì è il momento secondo me come posso dire culminante un po' del cammino di un cristiano di un discepolo insieme al Signore abbiamo sempre lui davanti e noi siamo sempre chiamati a avvolgerci questo è convertirci volgerci verso di Lui e il Vangelo di oggi guarda caso il Signore ci invita alla conversione credendo in Lui ecco ringrazio il Signore e attraverso Lui tutti quanti voi qui presenti possiamo concludere se non c'è altro con una preghiera Padre nostro che sei nei Cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra darci oggi il nostro pane quotidiano rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci calmare buona serata grazie anche a voi della pazienza e della partecipazione buona serata grazie ciao a tutti grazie a tutti Alessandro ci si risente poi per telefono sì noi ci si risente vai va bene come va come va bene meglio via sì meglio va bene oggi c'era anche questa di ampliazioni va bene ci sei fatto via non sarebbe troppo facile via ok vai poi ci risentiamo vado via anch'io ciao ciao Sandro ciao 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 don Luca arrivederci grazie ciao ciao ciao